si gioca sempre 10 minuti qui sull'iCess ok mi è lo 2499 qualcuno già mi potrebbe rimproverare perché non l'ho aggiornato comunque sia il mio avversario gioca d4 io gioco c5 dunque d5 spinta e5 è una mossa che ripropongo dico ripropongo perché in altri video ho giocato questa mossa la cui idea è quanto prima eliminare e cambiare il proprio alfiere di casenere semplicemente perché dopo poche mosse come vedete posiziono tanti pedoni su casa scura quindi questo alfiere soffre ed è proprio lui che mi chiede di essere cambiato e allora il piano principale cercherò di giocare quanto prima una mossa come alfiere g5 di per sé è una mossa strana come vedete sono più mosse consecutive di alfiere tante mosse consecutive di pedone e secondo la teoria secondo quello che si conosce quello che si sa o si dovrebbe sapere intanto ok così dovrebbe andare meglio comunque secondo la teoria secondo quello che conosciamo l'ideale è cercare di giocare per non creare ritardo di sviluppi il ritardo di sviluppo si crea quasi sempre muovendo tante volte lo stesso pezzo oppure più volte tante mosse di pedone alfiere scacco la difesa più naturale è quella di alfiere però vi dico che quasi sempre in queste posizioni quando arriva ad un alfiere che dà scacco la difesa meno naturale è quella più forte e allora gioco cavallo d7 qual è l'idea? mi serve questo alfiere quindi se non mi cambia sarò contento semplicemente perché mi aiuterà nell'evitare una sua possibile futura cavallo b5 oppure nell'evitare o nel preparare la spinta a6 quindi b5 continuo il mio piano devo sviluppare i miei pezzi un cavallino f6 non fa altro che collocarsi in una casa naturale una casa ottima per lui e dunque dopo che il cavallo si sposta in in f6 siamo pronti per eventualmente arroccare il rassicuro è sempre qualcosa di molto utile e dopodichè nel momento in cui entrambi i giocatori arrocchino quindi immagino che il bianco arrocchera a corto e il arrocco corto da lì in poi si inizia inizierà il medio gioco e dunque entrambi i giocatori dovrebbero cercare di sviluppare un piano per ottenere vantaggio quindi tipici piani ok in che modo posso ottenere vantaggio magari se è una posizione che conosco conosco già i piani per attaccare se è una posizione che conosco magari per lui sarà difficile difendere o comunque sia potrebbe essere difficile attaccarmi e quindi da questo punto di vista l'esperienza è molto importante così come lo studio ritorniamo quindi alla partita 8 minuti e 10 secondi sta pensando questo è un momento importante comunque sia sta pensando io gioco mosse facili sia per recuperare qualche secondo in più sull'orologio come vedete la differenza adesso dice ok in nero a 40 secondi in più e sia perché ci sono delle mosse delle quali non bisogna pensare il suo piano è molto interessante H3 G4 sacrificando tra virgolette la possibilità di mettere il proprio rail sicuro per attaccare e prendere spazio non mi preoccupa particolarmente la spinta in G5 perché dopo la spinta il mio cavallo salta allegramente in F4 e allora così come annunciavo prima è uno dei schemi principali dei piani principali senza altro quello di giocare per la spinta in B5 e allora a tal proposito decido di continuare in questo modo pedone A6 B5 è già nell'aria si potrebbe vi dico anche giocare sfruttando un tema tattico tipico del gambetto Benko e quindi cercando di seguire quell'idea io vi dico che B5 la gioco lo stesso un pedone che si trovava in una casa controllata una due tre volte la mia idea è continuare in questo modo guadagno un tempo su quest'alfiere dall'altra parte difendo la torre e cercando di seguire i percorsi tipici del gambetto Benko spesso il controgioco è cercare di dar noia al punto E4 quindi vi dico che se lui giocasse alfiere D3 senz'altro C4 sarebbe stata una buona mossa non ha giocato alfiere D3 e allora io continuo in questo modo quindi catturo lo mi cambia probabilmente alfiere per e adesso devo giustificare il pedone che ho sacrificato donna 5 punto il suo re la minaccia immediata è cavallo per E4 cavallo per E4 che ha un doppio ruolo il primo sfruttare l'inchiudatura il secondo sfruttare questo piccolo fastidioso tema di sovraccarico se io catturo qui chiaramente il suo cavallo che mi riprende perde la difesa di P5 quale potrebbe mai essere la contraindicazione che quando io mi rifarò sull'alfiere il suo cavallo centrale dannoia sul punto D6 e allora raggiunta questa posizione vi dico che il mio piano cambia e cambia un po' ma non del tutto perché il fatto che lui abbia mossa questi pedoni mi fa venire in mente un'altra idea tipica ricordate se il vostro avversario muove un pedone in H3 G4 e poi a rocca corto con molta probabilità H5 sarà la mossa che vi porterà in vantaggio e allora al tal proposito è la prima che mi viene in mente io gioco H5 lui mi spinge catturo catturo mi rifaccio sull'alfiere lui mi cattura in D6 io mi sposto indietro ok e la posizione potrebbe essere complessa ma interessante vediamo se ci sono alternative più facili perché io gioco H5 lui spinge e magari al fiere per H3 potrebbe essere un punto di inizio ma pedone per F6 non mi piace assolutamente e allora H5 lui spinge io catturo lui cattura e a questo punto donna per cavallo per D6 la donna torna indietro lui mi cattura la donna riprende da lontano minaccia il punto H3 ma anche lì e non è così chiaro perché lui ha una mossa come RH2 tanti colori tante frecce per farvi vedere che ancora non è così delineata e chiara la posizione potrei dunque giocare qualche mossa di attesa ad esempio cavallo C7 vi assicuro che è una mossa interessante sviluppo o comunque migliore il cavallo che lo porto verso il centro e poi da lì mi dirigo verso possibili controgiochi giochiamo a tal proposito cavallo C7 se lui mi spinge il piano di cui parlavo prima salterò qui se alfiere D3 occhio perché ci sarà sempre un'idea tattica con la spinta del pedone C4 e se alfiere 2 ok quello sarà il tipo di posizione che affronteremo H5 comunque sia resta valida come idea su H5 e senz'altro arriverà G5 e quindi la partita proseguirà vediamo un po' se gioco questa lui spinge il mio cavallo potrebbe dirigersi magari da questo lato potrebbe fare questo giro probabile e allora cerchiamo di riattivare il cavallo ok dico che potrebbe fare questo giro perché nel mentre ci sarà gioco e controgioco sul punto H3 quindi posso trasladare guardate che verbo tecnico traslado il cavallo dal lato di re al lato di donna ok donna 1 mi vuole cambiare però donna b4 mi sembra un buon dettaglio per la posizione raggiunta occhio che ti minaccia il pedone b2 se mi giochi questa me la penso magari dovrò tornare indietro per porti un cambio però occhio che devi calcolare se la donna lascia il punto b2 io comunque sia potrei catturare perché questo vorrebbe dire attaccare guadagnare un tempo sul punto c3 vediamo un po' come proseguirà se donna cosa che per prima mi viene in mente semplicemente perché il mio cavallo in c7 è rimasto indifeso quindi sempre tenere sotto controllo i propri pezzi non difesi e dall'altra parte cercare di immaginare come attaccarli quindi su donna 7 io catturo e attacco il suo cavallo quindi se lui mi cattura il mio io catturo il suo però la controindicazione nuovamente sarà la perdita di questo pedone quindi se vedete questo percorso di donna che è coloro di verde porterebbe successivamente a questa cattura di pedone che non è quello che voglio significa che se lui giocherà donna 7 che è la mossa che è appena stata giocata e dovrà spostare questo cavallo portarlo e portarlo indietro sarebbe un po' triste un po' bruttino e allora giochiamo donna b6 proponendo un cambio senz'altro lui mi cambierà guadagnerò un tempo con l'alfiere contro questo pedone e quindi è manovra tipica del benko ossia cercare di avere gioco e contro gioco sul lato di di donna a tal proposito ok reggi 2 l'immaginavo ok era era possibile f6 interessante anche f5 in realtà f6 mi cattura l'attenzione perché poi questa torre potrebbe creare un gioco tattico con la cattura del pedone h3 si direi f6 andiamo per il gioco dinamico f6 se mi catturi prendo di torre ok posso giocare in questo modo perché la sua torre non è ancora attiva e senz'altro cercherà di attivarla in questo modo però nel momento in cui creiamo sempre una minaccia immediata al nostro avversario non gli daremo mai o comunque quasi mai il tempo di organizzare di organizzarsi quindi f6 minaccia il pedone se l'immaginavo cattura torre cattura con l'idea tattica di sfruttare questo re in sovraccarico o difende il pedone o difende il cavallo e da lì continuare la partita quindi diciamo che in questa posizione è tutta da giocare nonostante il pedone in meno il pedone sacrificato è stato più che giustificato e più che giustificato dalla posizione raggiunta sono contento di questa di questa posizione non vedo grandi controindicazioni se mi gioco h4 probabilmente l'alfiere lo piazziamo qua sempre con l'idea di aggredire il punto g5 qualcuno dirà beh ti gioco a g6 e ciaone perché questo pedone chiaramente limita tantissimo il lato di re da una parte è vero però dall'altra è pur sempre un pedone che bloccato su casa chiara potrebbe essere soggetto a degli attacchi ok scelta pratica la sua mi crea un piccolo dubbio perché o mi cattura qui oppure mi cambia il cavallo direi che il cambio del cavallo lo accettiamo per poi e questa era la mia idea demolire il centro perché se ti gioco f5 questo centro soffre un po' vediamo andiamo su f5 f5 mi aspetto questa io catturo cavallo per e questo è un problema altrimenti se io catturo lo mi cattura ok e questo cavallo realmente è parecchio difficile da da sostenere penso che f5 vada fatta altrimenti vi propongo un'idea strana strana ma affascinante il famoso re guerriero il re guerriero chi è? è un re che dal nulla entra in gioco per cercare di creare minacce e problemi all'avversario quindi la mia idea in realtà è questa re g6 attaccando il pedone non teme nessuno ok su questa la cattura di torre è interessante giocherà senz'altro questa anche di pedone di pedone potrei dar vita a torre g8 per attaccare anzi di pedone forse è un po' meglio e di pedone per attivare la torre in questo modo ok torre 7 direi f5 f5 aggrediamo il centro ok se mi gioca questa comunque rf6 che era anche la mia idea per lasciare strada libera alla torre e adesso il mio piano è cercare di aggredire con forza con con tenacia in modo immediato veloce e rapido il centro del mio avversario per farlo crollare se lo mi cattura riprenderemo di alfiere e poi la partita proseguirà tratto con una cattura di alfiere qui ci sarà la minaccia tattica alfiere 4 coordinando torre e donna o meglio torre e alfiere ok va bene questa idea alfiere per alfiere e4 va bene rf6 re g5 re guerriero che forza un po' il gioco però rf6 allora se io gioco questa può darsi che gli dia la possibilità di fare questa però se gioco re g5 ah si re g5 re g5 più forzante più forzante ok l'umi cattura qui direi che catturo alfiere cattura e adesso la cattura di re la cattura di re come annunciato prima per lasciare casa libera alla torre tra l'altro e non è un dettaglio da poco guadagni il tempo perché voglio catturare il pedone centrale ok come potrebbe proseguire se catturo qui ci sono dei problemi perché il salto in f4 è un cavallo che si piazza su una casa scura e quindi chiaramente lui lo evita altrimenti ok mi vorrà dare noia con questa torre qui ma noi sappiamo che abbiamo un re guerriero il re guerriero non teme nulla e visto che non teme nulla lo portiamo a cercare confusione lo portiamo nella mischia quindi questo re d4 con l'idea di catturare qui ok idea per lui di controgioco senz'altro torre qui sembra essere una mossa forte e interessante perché non posso difendere con torre f5 ok mi ha giocato questa direi scacco intermedio glielo diamo ok glielo daremo dopo e cavallo c8 è obbligata se torre qui comunque scacco intermedio che vale 7 occhio che la posizione è chiusa e quest'ora potrebbe fare la differenza perché è molto più attivo e più forte di quest'altro il tempo è più o meno lo stesso vi assicuro che questa posizione nonostante abbia un pedone in meno pedone sacrificato qualche mossa fa è abbastanza giocabile è una posizione difficile da giocare per entrambi però da parte mia e qualche piano ce l'ho che è quella di giocare re d4 e quindi iniziare ad attaccare in questo modo ok torre g7 sulla scacchiera vediamo re d4 o re d3 re d3 forse è meglio re d3 anzi no mi sono pentito perché quando io catturo qui poi mi troverò inchiodato mi sono pentito di questa re d3 ok allora h4 contro l'indicazione di h4 torre g4 ah ne ho un'altra non questa che crea problemi il re guerriero protagonista vi presento questo re che non può subire scacchi adesso si entra prima con la torre uno scacco fa sempre piacere dopodiché attiviamo il cavallo e noi dal nulla silenziosamente abbiamo un pedone libero occhio che il cavallo in f5 si coordina con altri pezzi di fatto lui gioca alfiere d7 che è una mossa logica però no dobbiamo attivare il cavallo quindi lo portiamo lo possiamo portare ok mi vuole giocare questa forse facciamo uno scacco intermedio guadagniamo qualche qualche secondo se va avanti gli diamo scacco e li catturiamo qua ok però abbiamo detto scacco e ok catturare questo pedone sembra ah contro scacco va bene re d3 anche qui non so se re d3 o re d2 perché quando questo pedone fugge e diciamo che fugge quando questo pedone fuggirà e ok qui abbiamo come idea cavallo f5 re g5 quindi non ci piace cavallo g6 era lì e quindi forse ho fatto una mossa imprecisa e cavallo g8 lo miglioreremo qui se necessario ok faccio una mossa per riorganizzare i miei pezzi occhio che abbiamo sempre questa idea io ho un pedone libero lui anche però il mio più pericoloso è molto più avanti ok direi che è il momento di spingerlo vediamo quanta soddisfazione potrebbe dare questo pedone che cerca di andare in avanti da solo infatti se lui mi attacca il cavallo tra virgolette io mi disinteresso non mi interessa difendere il cavallo perché questo pedone è praticamente arrivato e ok adesso giochiamo torre qui e forse 2 vabbè torre qua in alcuni casi torre 5 se il fiere 6 vado giù se torre 6 glielo cambio beh su torre 6 in teoria dovrei cambiarlo ok glielo cambio gioco i 2 non così chiaro facciamo questa mossa di attesa d'accordo e andiamo a mangiare pedoni non così chiaro d'accordo cavallo f6 idea cavallo per g4 e va bene cavallo per g4 e 2 cavallo e 5 non così facile per lui arriva la promozione arriva la promozione non ho tempo facciamo mosse per guadagnare secondi non ho tempo scacco intermedio va bene perso per il tempo una posizione posizione interessante va bene parlerò meno la prossima partita si scende un po' intanto vediamo l'apertura che è interessante come vi dicevo potrebbe essere un approccio sorprendente per appunto rendere tutto nuovo per il vostro avversario mettere tutti i pedoni su casa nera cambiare l'alfiere e poi continuare in questo modo raggiunta questa posizione e la scelta del mio avversario che è stata interessante con h3 g4 posticipando l'arroco per attaccare vediamo qui che valore da ok tutto normale donna 5 arroco cavallo c7 è quello che ho giocato io l'alfiere va via ok h5 donna b4 la considero un po' più precisa probabilmente per giocare c4 comunque sia raggiunta questa posizione non vedo assolutamente il problema ok abbiamo un pedone in meno è un pedone consapevolmente ceduto al nostro avversario però dopo f6 come vedete qui la valutazione oscilla sempre leggero bianco perché ha il pedone in più però dal punto di vista pratico con questo re guerriero mi assicuro che che stiamo bene cavallo per d5 ok questa l'ho mancata l'avevo intuita l'avevo anche detta e cavallo per d5 è chiaramente migliore perché salteremo su casa nera ok posizione equilibrata re guerriero adesso si prende iniziativa e adesso non è non è facile e4 secondo il computer è il modo migliore quindi cercare di approfittare di questo pedone libero allora io ho giocato cavallo e7 fiere torna indietro torre f3 prematura ok va bene torre f6 e poi spingo il pedone questa sarebbe stata la mossa migliore ok fino a qui comunque siamo ancora in partita cavallo g8 va bene regge 5 torre f8 tutto molto equilibrato cavallo f6 cavallo f6 la scelta giusta comunque spingo torre qui va bene qui la dà vinta per lui cavallo h6 questa non l'ho considerata però cavallo f6 guardate che curioso perché poi alla fine io riesco a promuovere e quindi la posizione diventa totalmente vinta purtroppo con poco tempo sull'orologio e non ce l'ho fatta ok questa tattica anche promozione immediata interessante poi cavallo di 3 avrei mangiato tutti i pedoni e con quei 3 secondi che mi restavano sicuramente non l'avrei perso va bene appuntamento alla prossima ciao 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 ciao